Alle 28 aziende certificate con il marchio di qualità della Rete dei Parchi e delle Aree Protette del Parco Naturale Regionale di Porto Conte sono stati consegnati i bollini di qualità ambientale. Il riconoscimento alle aziende di Monica Todd, Giovanni Carie e Stefano Cucca, Massimiliano Fassio, Serra Iuncus a Tanca e su Miele di Luigi Tanca e la cooperativa Sirte è stato consegnato a Villa Gioiosa, la Casa del Parco, dagli Assessori dell'Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Alghero, Raniero Selva e Ornella Piras. Il marchio riconosce un percorso di qualità e rispetto dell'ambiente nei processi produttivi e viene concesso ormai da un quinquennio dal Parco Naturale Regionale di Porto Conte alle aziende operanti nel territorio protetto e impegnate nella produzione agroalimentare, dei servizi di accoglienza e promozione del territorio. Il bollino ha il duplice obiettivo di valorizzare le eccellenze, promuovere l'ambiente e di conseguenza garantire la sostenibilità dei prodotti e dei servizi. Nel corso della cerimonia di consegna del documento di certificazione alle aziende, il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, ha ribadito l'intenzione di lavorare sempre di più con il tessuto produttivo del territorio, poiché, ha detto Mariani, siamo convinti che siano loro i veri ambasciatori del territorio e di quello che produce, seguendo processi sostenibili e rispettosi dell'ambiente, ma è anche uno strumento per lo sviluppo economico della comunità territoriale.